Il gruppo italico e anche un gruppo internazionale Il gruppo internazionale E se posso ricordare qualche punto, cruciale che esistono da questo congresso Il gruppo di prevenzione E c'era un grande dibattito sulla prevenzione delle nuove persone sulla screnazione se è utile o non la screnazione di ACG la opinione italiana e la opinione americana Questo è uno dei più importanti del congresso e poi l'aspetto della patofisiologia della screnazione dell'escemica il focus non solo sull'estate 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 ma anche sull'acqua la macrocirculazione e il ruolo di diversi aspetti su questa fisiologia e patofisiologia. E per la malattia di dolore propone una nuova classificazione che mutua alcuni aspetti dalla classificazione utilizzata in oncologia la classificazione TNM in cardiologia proponiamo la classificazione HLM che è apprezzata dalla facoltà internazionale e credo che nel futuro ci sarà un registro su questo tema e finalmente il nuovo aspetto il nuovo dispositivo per il trattamento di dolore e l'uso di nuove tecnologie per immagini in cardiologia in particolare per dolore io apprezzato molto la discussione su questo punto e credo che ho summarizzato le novità che riusciano di questo congresso e una volta grazie alla Fondazione Menarini per questa opportunità di condividere l'esperienza e il progresso scientifico con i colleghi nazionali e internazionali colleghi con i 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 colleghi e